E' uscito il Cufanetto edizione speciale due dischi di Agui e Randagge. Ma non era già uscito il DVD, sì, era già uscito. Questo però è doppio, è stato fatto un Cufanetto con una grafica rinnovata, con dentro due dischi e il primo disco è esattamente uguale a quello che era già in vendita e contiene il film. Il secondo disco invece contiene un sacco di contenuti speciali, un documentario sulla realizzazione del film, altre pillole di backstage, le scene tagliate, gli errori sul set e le interviste esclusive fatte da noi a Don Giovanni Barbareschi e a Mario Isella. Come vedete il Cufanetto è appunto in edizione speciale esclusiva e diversa dal Cufanetto originale, anche la grafica del primo DVD è stata cambiata e lo trovate in vendita da ScoutCop all'indirizzo scout.cop.